Le gambe sono dure? Numero 159, seconda posizione, centra di fila, 159, davanti nel grado, intanto numero 43, 4, 3, prima posizione 4, 3. La campana, il meno 22, Daniel Nero e Fabio Campolini, subito a Daniel Nero, grande acelerazione del campione del mondo, che va, a одного avanti, ma di meno 21, 30, 45, 3, 2, 3, 0, 4, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 6, 8, poi Niero si infila, in seconda posizione si porta con altri punti del passaggio, la gara è velocissima, 43, 276, 4, 3, 2, 7, 6, punti per Adesso Gementoni, per Bavante, Adesso Gagnoni, che allunga, i punti, in baglio, il traguardo di meno 18, 3 punti per Cascuno, Gagnoni, Gementoni, Bavante, 988, 654, 1,988, 654, 3, 2, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 988, 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 9 attraverso il doncio in particolare nella partola hanno disputato una volata spettacolare dopo 42 km quindi ne hanno già percorso quasi due 276 30 628 seconda menazione entra in diffida 628 quando siamo già a un pubbio di meno 15 988 30 988 38 quindi cannonini ma prenderà altri due punti adesso le rosa davanti le rosa va accacciati in punti di meno 14 205 276 205 276 nero ancora qui e talvez 217 erano 204 33 30 43 43 m 23 m Davide Menegallo, punti di meno 12, 203, 30, 203, 30, un altro punto per Miero che salga a 10, ma siamo ai punti di meno 11, la canna è velocissima, con la Miero davanti, 30, 203, 30, 203, Matteo Gagatei al interno, spettacolare, ad ogni giro c'è un'azione di un atleta diverso tra i 25, punti di meno 10 a passaggio, 1 di 2 km di gara, 159, 43, 159, 43, e arrivi, adesso è Matteo Larrisona, arrivo dentro, Sfato Larrisona, 4, 3, 159, invece a questo va guarda 605, 988, partito Matteo Larrisona, Poi Cagnoni, poi Recolini, poi Anzio Clementoni, e secondo, a meno 8, con da meno 12 punti, 605, 205, quindi, vediamo, 605, 205, non bisogna non stare a passaggio, 605, 276, 305, 276, 159, prima munizione, e adesso è il gruppo, Matteo, Matteo Larrisona, Sfato Larrisona, ancora in una fuga, 605, 276, all'attortaggio, e suono, sembra una Gauti, livello internazionale, e una nuova, di livello internazionale, con Matteo Larrisona, ha salvato, 605, 30, questo è l'attacordo, di meno 5, mancano 4 giri, e c'è Matteo Larrisona, ancora in una fuga, grande azione, e 65, 30, al passaggio, grande azione, del ragazzo dei patinatori Spinea, da diversi anni, il figlio della Nazionale, ma l'abbiamo in una grande scuola per oggi, tra i punti di meno 3, 605, 205, 605, 605, 205, un'altra, e al passaggio, con la campana, siamo in attesa del ragionamento dei punti, con la, Marcello, Valdonia, 705, 3, 5, 3, 5, 3, il satisario Castellino, la mancano tra i panni, attravo, con il titolo che vi a spunti, il trago, buonissimo, è Matteo Larrisona, il ragionamento dei punti, sono spaviti dal capellone, sono spaviti dal capellone i punti, Ma comunque poi metteremo la classifica, la grande azione, quasi in 2 km di funga, è arrivato da solo Matteo Babison. Non so, non sappiamo che ci ha visto il titolo, adesso aspettiamo la comunicazione vitali, l'applauso dell'apprezzazione. La ragazza è la conclusa, 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 la ragazza è la conclusa.